Oggi anch'io ho fatto il vaccino, ha un valore per me personalmente, ovviamente straordinariamente importante perché è la strada per creare un'immunità protettiva rispetto a Sars-CoV-2. Spero però anche che l'esempio della mia vaccinazione possa servire da ulteriore incentivazione per tutti gli italiani. I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci, vacciniamoci tutti se vogliamo uscire da questa situazione e soprattutto se vogliamo difendere le persone più fragili e indifese.